Buongiorno e bentrovati a questo ultimo appuntamento della settimana con la nostra rassegna stampa che inizia come sempre dalle prime pagine dei quotidiani regionali, allora andiamo a vedere centro messaggero e città partiamo proprio dal quotidiano dell'Abruzzo, in apertura il dramma che si è consumato ieri muore investita dalla figlia di 14 anni Giulia Nova, la ragazza, era alla guida dell'auto della madre quarantenne poi andiamo a vedere il taglio alto sotto la testata, Lenini commissario al sisma il nome ormai circolava da diverse settimane, nominato da Conte, si occuperà della ricostruzione in Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche la prima dichiarazione del neocommissario per me è una grande sfida, farò di tutto per vincerla, queste le parole di Lenini per quanto riguarda invece le imprese aquilane, tasse sospese, il ministro Amendola, ministro per gli affari europei annuncia il maxisconto andiamo a vedere poi nelle cronache, mercato ittico chiuso, sette giorni per sporcizia a Pescara c'è stato il blitz dei NAS, poi il progetto che riguarda sempre il capoluogo adriatico Viale Marconi a tre corsie, no dei consiglieri a Montesilvano arriva il lavoro per i redditi di cittadinanza e poi la storia che riguarda Montesilvano anche se non in maniera diretta e di Montesilvano Ruth Giansante, la top manager del petrolio negli Stati Uniti la donna ha 43 anni Poi prima di andare a vedere il Pescara e dunque anche il servizio relativo alla partita il buongiorno Abruzzo nel taglio basso come sempre firmato da Giuliano Di Tanna il titolo Rinunciare a qualcosa per riavere la vita e come detto andiamo a vedere adesso il centropagina con questa foto di Galano perplesso e sconfortato un altro tonfo per il Pescara, la squadra sbaglia in difesa contro il Cittadella e paga ancora pegno partita finita 1-2 che vediamo nel servizio di Paolo Renzetti Il Cittadella si conferma la bestia nera del Pescara violando l'Adriatico per 2-1 al termine di 90 minuti nervosi e con il Delfino generoso ma ancora una volta vittima delle sue debolezze per il Pescara è comunque una battuta d'arresto immeritata Sesto successo di fila per la squadra di Ventoratus gli abruzzesi che ora sono attesi dalla trasferta di Crotone Le grottaglie con l'infermeria che registra il pienone costretto a scelte quasi obbligate nei tre di difesa a spazio del grosso al posto di Scognamiglio a centrocampo in campo dal primo minuto Melegoni che vince il ballottaggio con Clemenza con Crecco sulla fascia sinistra in attacco la sorpresa la presenza dall'inizio di Bocic con Galano I Veneti rispondono con il 4-3-1-2 in panchina l'ex Biancazzurro e Terramano Cristian Ventola Nella fresca serata dell'Adriatico di fronte a 5.000 spettatori il Delfino inizia come peggio non poteva visto che al settimo dio approfitta di una dormita della difesa abruzzese mettendo di potenza il pallone alle spalle dell'incolpevole Vincenzo Fiorillo Subito in salita il match per la formazione del presidente Sebastiani con Zappa che all'occasione poco dopo per il pareggio calciando però addosso a Paleari che salva spingono i padroni di casa costretti ad attaccare ma anche ad evitare di scoprirsi troppo al cospetto di una squadra abile in contropiede dopo l'avvio a Sciocchi il Delfino inizia a prendere in mano le redini del gioco trovando così al ventiduesimo il gol del meritato pareggio con Zappa che di testa su cross di Melegoni supera Paleari per l'1-1 per il centrocampista abruzzese arriva così la terza rete stagionale dopo le prodezze con Pordenone e Cosenza i ragazzi di Le Grottaglie rinfrancati continuano a far vedere le cose migliori con gli ospiti ora in difficoltà nei confronti di un Pescara generoso al trentacinquesimo si rivede però la formazione di Venturato con un tiro di branca dalla distanza parato a terra da Fiorillo al quarantesimo dopo una rovesciata si infortuna del grosso che è costretto a lasciare il campo a Delizalde che fa così il suo esordio assoluto con la maglia bianca azzurra dopo l'esperienza non fortunatissima nella prima parte di stagione a Catanzaro Le Grottaglie resta con il 3-5-2 anche se nella ripresa gli ospiti sono subito pericolosi al quinto con un colpo di testa fuori misura di Dio migliora la formazione veneta anche se al dodicesimo prima Bocic trova il tiro e una deviazione di Gringhelli in angolo poi sul corner c'è il colpo di testa di Drudi con il miracolo di Paleari che salva la rete del 2-1 negando al difensore bianca azzurro il gol dell'ex attacca la squadra di casa con il Cittadella che ricorre a falli sistematici in alcuni casi non sanzionati a dovere dal direttore di gara che poi al 28esimo assegna un calcio di rigore al Cittadella per un fallo di Elizalde proprio appena dentro l'area di rigore sull'attaccante di O dal dischetto Ioris piazza Fiorillo per il nuovo vantaggio ospite con Le Grottaglie che già ammonito prende il rosso ed è costretto così ad abbandonare la panchina il Delfino schiuma rabbia con un finale di partita ancora più nervoso e con Fiorillo e Soci che premono senza però costrutto e senza riuscire ad impegnare Paleari e con Fiorillo che invece salva al 95esimo su Luppi negando al giocatore veneto il gol del 3-1 al 95esimo arriva il tripice fischio finale del contestatissimo Illuzzi di Molfetta per il Pescara arriva la decima sconfitta stagionale con il pensiero già rivolto alla gara di domenica prossima a Lezio Scida di Crotone i Biancazzuri saranno ancora in formazione rimaneggiata ma in terra di Calabria sarà necessario assolutamente fare risultato e dunque questo il servizio della partita poi nella seconda parte della rassegna andremo ad ascoltare anche le parole dell'allenatore del Pescara, le Grottaglie continuiamo con la lettura delle prime pagine regionali sul centro edizione di Chieti il titolo di apertura è il medesimo della precedente edizione che poi ritroveremo anche in quella di Eteramo muore investita dalla figlia di 14 anni, a Giulianova la ragazza era la guida della Opel Zafira della madre quarantenne poi andiamo a vedere adesso il centropagina con la fotografia Chieti paura nell'impianto che funziona a metà cadono dalla scala mobile due feriti, uno di questi è grave c'è stato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno soccorso i due anziani caduti dai gradini della scala mobile di Chieti di spalla la tariffa a Ortona, il matrimonio a Palazzo Farnese costerà 450 euro ancora discarica bruciata, c'è la condanna niente bonifica a Colle Marcone, 18 mesi più multa al proprietario andiamo avanti nell'edizione Teramana, ritroviamo anche qui il titolo di apertura muore investita dalla figlia di 14 anni e qui vedete anche la fotografia dei rilievi dei carabinieri sul luogo dell'incidente poi nelle cronache il sisma a Teramo sfollati parte l'assegnazione delle prime case a Giulianova, addio a 90 anni alla signora del pattinaggio Lavinia Tritapepe nello sport per il calcio di Serie C, il Teramo va all'assalto delle monopoli rivelazione del campionato, poi ancora donna suicida e indagato il marito è accusato di maltrattamento in famiglia, oggi l'autopsia sulla 45enne continuiamo con il centro, andiamo a vedere l'ultima delle quattro edizioni provinciali quella aquilana e in apertura si cambia argomento, Gran Sasso il parco sotto accusa l'Aquila ha vincoli e divieti al centro del Consiglio Comunale straordinario poi nella fotonotizia call center in crisi si tinde davanti alle poste e sciopero all'Aquila agitazione dei 200 lavoratori del call center poi ancora muore investita dalla figlia di 14 anni, è la notizia che abbiamo visto scusate, in precedenza in apertura, che adesso ritroviamo nel taglio centrale aperta un'indagine per fare luce sulle cause dell'incidente nelle cronache, inquinamento, fucino, solventi finiti nei canali, scatta l'allarme a Sulmona, finta aggressione, Camara rischia una denuncia per simulazione poi ancora il concerto, il G ha ridotto, l'Aquila rende omaggio alla musica di Morricone abbiamo letto così anche le quattro edizioni provinciali del centro adesso andiamo ad aprire la prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero in apertura ritroviamo il dramma di Giulianova, travolta con l'auto dalla figlia la ragazzina al volante ha solo 14 anni, lei cerca di bloccarla schiacciata contro un muro, terribile tragedia familiare il fratello della vittima era stato investito e ucciso da un ubriaco a Chieti poi ancora Sulmona, falciò un carabiniere condannato a nove anni di reclusione più il ritiro della patente e il risarcimento delle parti civili costituite questa è la decisione del GUP del Tribunale di Bergamo Massimiliano Magliacani, emesso ieri nei confronti di Matteo Manzi Colombi il cuoco di 34 anni che il 17 giugno, lo ricorderete travolse ed uccise mentre era alla guida della sua auto ubriaco il carabiniere originario di Sulmona Emanuele Anzini di spalla il premio strega candidato lo scrittore Remo Rapino questa è la notizia di cultura, l'autore di Lanciano in gara con un diario intimo sul 900 il post sisma nella fotonotizia, tasse nel cratere non vanno restituite Legnini intanto diventa commissario alla ricostruzione nominato ieri dal premier Giuseppe Conte poi ancora Simona suicida come la sorella via l'inchiesta i carabinieri hanno trovato un messaggio la procura vuole certezze, oggi si svolgerà l'autopsia nel taglio basso, Colossi in crisi Conad Oshan, 400 posti in bilico nel risico dell'avvertenza Conad Oshan c'è anche il caso Abruzzo andiamo a vedere il taglio alto con le altre notizie Pescara, cattiva igiene il NAS chiude il mercato ittico al dettaglio intolleranza, aggressione davanti al locale antirazzista uomo e donna finiscono a processo e poi per il calcio di Serie B il Pescara perde all'Adriatico con lo spauracchio Cittadella, abbiamo visto la partita finita 1-2 per i Veneti andiamo a vedere anche la prima pagina della città il quotidiano della provincia di Teramo in apertura chiaramente ritroviamo la notizia di Giulianova muore investita dalla figlia 14enne tragedia nella tragedia ieri mattina Giulianova 41enne travolta dall'auto in retromarcia a Roseto degli Abruzzi minorenne colpita al volto da uno specchietto poi acqua sicura il commissario Gisonni si presenta ai Teramani per quanto riguarda la sanità la ASL di Teramo punta sull'innovazione ieri c'è stato questo convegno e anche e soprattutto in ricordo dell'ex manager Fagnano andiamo a vedere la notizia che invece riguarda la ricostruzione Giovanni Lenini è il commissario del Sisma e poi passo avanti per gli alloggi agli sfollati al centro pagina nella fotonotizia dopo anni sfileranno di nuovo in centro storico tornano i carri allegorici del carnevale a Teramo e poi il nuovo album swing di Silvia Pagni la cantante e poi l'istrumentista a Teramana lancia il suo disco troviamo ancora a Roseto patto tra comune e balneatori per sistemare l'arenile e poi per la serie C Tedino pensa a Bombaggi falso 9 per la gara di oggi lasciamo le prime pagine regionali adesso apriamo lo spazio dedicato ai titoli nazionali con le principali testate italiane partiamo dal Corriere della Sera in apertura governo segnali di tregua il premier non ho problemi con Renzi e non penso a un conteter il leader di Italia Viva è ora di parlare di altro Bellanova la fiducia a Bonafede non è all'ordine del giorno dunque si stempera un po' la tensione secondo almeno secondo il Corriere della Sera nel governo che era si pensava ad un passo dalla crisi il virus avanza primo caso anche in Africa l'emergenza coronavirus c'è stato il rientro di Nicolò il ragazzo di 17 anni rimasto in Cina perché aveva delle linee di febbre non poteva rientrare in Italia con gli altri 56 che invece hanno fatto ritorno qualche giorno fa a pratica di mare poi di spalla troviamo il voto in America l'editoriale di Alberto Alesina il titolo ma Trump si può fermare lasciamo il Corriere della Sera andiamo su Repubblica torniamo alla politica italiana Renzi frena Conte no crisi congelata il Premier non si fida più di Italia Viva e pensa a un piano B con l'appoggio dei dissidenti renziani il Quirinale se tutto precipita si va alle urne ma solo in autunno la Sardina Santori commenta troppi bombaroli dunque vedete la posizione di Repubblica e il racconto di Repubblica è leggermente diverso rispetto a quello del Corriere della Sera sondaggio Demos intanto Lega in calo Meloni raggiunge 5 stelle PD oltre il 20% di spalla il vertice al Ministero e l'annuncio shock per Air Italy 1450 licenziamenti la Germania si ferma e rischia la recessione industria in difficoltà insomma è questo un po' il clima in cui si inserisce questa ennesima vertenza che riguarda il nostro paese andiamo a vedere poi le altre notizie maxi multa da un milione e mezzo Salini in bilico la Gcom punisce la RAI non rispettato il pluralismo andiamo poi sul sole 24 ore in apertura il bonus facciate maxi sconto sul risparmio energetico queste le agevolazioni sulla casa dalle entrate le istruzioni sulla detrazione del 90% premio anche alle imprese con un intervento esteso scatta anche l'obbligo di riqualificazione verde ammesse opere sulle parti esterne visibili beneficio escluso per i lati interni poi andiamo a vedere l'intervista all'amministratore delegato del gruppo Nicola Monti Edison torna sul dossier F2I e punta sulle rinnovabili questo ci propone il sole 24 ore e poi ancora si parla di politica ed economia il pacchetto crescita punta su edilizia ricerca e un ego bonus più elevato Gualtieri migliorerà il rapporto debito PIL quota 100 non si tocca questa la rassicurazione poi il dato sulla Germania in stallo effetto freno sull'eurozona questo chiaramente questa non è una notizia positiva per tutta l'economia europea il fatto quotidiano ora con un Renzi legato sulla poltrona poltrona viva e il titolo a cuccia arrivano le nomine meglio stare a tavola sei anni dopo l'enrico stai sereno ricorderete Renzi ritira i ricatti a conto e vota tutto stretto fra responsabili di Forza Italia e pentiti di Italia viva così il fatto quotidiano poi ancora nel taglio alto Vitalizi Movimento 5 Stelle in piazza retromarcia casellati anticasta cancelleri non dateci per morti ora Graviano lancia dell'Uti contro B cioè contro Berlusconi il boss che procreò dal 41 bis manda messaggi sul manifesto adesso non sta né in cielo né in mare nella foto è quella di un aereo della Air Italy pronte le lettere di licenziamento per tutti i 1450 lavoratori il governo convoca sindacati e regioni Sardegna e Lombardia non i commissari per evitare la liquidazione intanto le voci di crisi della compagnia dei traghetti accentuano il dramma dell'isola ecco perché il titolo non sta né in cielo né in mare poi ancora Conte a caccia di responsabile invece il titolo sulla politica interna con Renzi scontro rimandato audio intanto di Casalino ci sarà un Conte Ter dice il portavoce in un audio rubato dubbi del partito democratico il messaggero ora il titolo di apertura governo battaglia sui transfughi il premier non voglio il Conte Ter grandi manovre per arruolare renziani e responsabili Renzi se vuole ci cacci sfiduceremo Bonafede e lavora per sfrattarlo da Palazzo Chigi la cura per il mezzogiorno avanza il piano sud con due rischi il libro dei sogni e l'effetto autonomia poi ancora andiamo a Roma la pace la pace tra clan garantita da Diabolic arrestato il suo legale coinvolto anche Salvatore Casamonica l'avvocatessa Lucia Gargano ai domiciliari questa l'ennesima inchiesta su quello che si muove nella malavita della capitale poi ancora sbarca dalla Cina Nicolò terapia con il plasma dei guariti il virus in Africa un caso in Egitto l'OMS sistema sanitario debole questo per quanto riguarda l'emergenza coronavirus andiamo adesso sul quotidiano il tempo dopo l'offensiva di Renzi giallo sul Conte Ter il portavoce del Premier ha ipotizzato scherzosamente tra virgolette scatenando un mezzo pandemonio appunto il Conte Ter ma da oggi Palazzo Chigi è a caccia di responsabili per sostituire Italia Viva ecco cosa accadrà andiamo avanti su avvenire il quotidiano cattolico apre così il piano inclinato dal governo un progetto per il mezzogiorno con i fondi europei finora inutilizzati ma la maggioranza resta in bidico il Premier Conte sulla riserva dei responsabili Renzi scusate sulla Ventino siamo alleati non sudditi Conte niente Ter ho un programma da realizzare questa la rassicurazione del Premier poi ancora Vaticano Cina intesa che fa un altro passo in avanti per la prima volta si incontrano i due ministri tra virgolette degli esteri dialogo per la vita della Chiesa e il bene dei cinesi l'azzardo una pandemia da 1830 euro a testa puntati 110 miliardi pensate e l'allarme rosso riguarda anche la nostra regione che tra le principali colpite da questo problema Abruzzo e Campania sono in testa andiamo avanti su Libero il titolo di apertura Conte non temo che il governo cada noi temiamo che stia in piedi critica senza mezze misure da parte di Libero Renzi prova a far fuori il Premier ma Castellino rivela ci sarà un Giuseppe Ter nessuno vuole andare a casa e poi una crisi al giorno intanto 1500 lavoratori perdono il posto e la crisi di Air Italy che abbiamo visto anche in precedenza sulla verità il governo traballa ma per ora non cade l'unica crisi di Renzi e da fame di poltrone cosa vuole il leader di Tagliaviva rompere e andare all'opposizione non gli conviene votare men che meno dietro il suo trambusto sulla prescrizione non ci sono battaglie ideali ma la smania di avere più caselle per il suo partitino nelle prossime nomine di stato questa è la lettura della verità il rottamatore è un altro problema il consigliere del premier sui posti chiave è D'Alema poi ancora Veltroni torna al cinema ecco l'elenco dei suoi flop questo è il titolo sulla fotografia di Veltroni e per quanto riguarda il coronavirus che è in Africa chiudete i porti primo caso accertato in Egitto la linea dura sugli sbarchi non è razzismo ma pura necessità caso a Itrov l'aeroporto di Londra è ribloccati tre ore per controlli l'OMS ammette di non avere dati sicuri questo quanto riportato dalla verità andiamo adesso ad aprire i quotidiani sportivi nazionali partiamo dalla gazzetta dello sport la clamorosa stangata del UEFA sul City sei fuori Pep che fai niente coppe per due anni a cominciare dalla prossima stagione per il Manchester City una multa da 30 milioni di euro il club fa ricorso al CAS di Lausanna Guardiola potrebbe decidere di andarsene Juve e Barca sono alla finestra il commento il rispetto delle regole e il valore dei bilanci sani proprio su questo caso clamoroso che segue quello sicuramente meno rumoroso del Milan che è stato escluso dalle coppe europee il City è il secondo club a subire questa misura il primo di una levatura diciamo di Champions andiamo a centropagina con la Juve ancora come riportare il polpo a Torino Pogba Juve ecco il piano sarebbe un affare da 150 milioni con l'ingaggio i bianconeri possono offrire allo United Rabiot o Ramsey questa è una querella insomma che va avanti da diversi mesi con le voci di Pogba che potrebbe tornare alla Juve Brivido Atalanta-Roma è quasi come una finale con vista sulla Champions a Bergamo 20 e 45 la partita fra Bergamaschi e laziali romanisti poi sulla sulla sull'Inter Sensi Calvario infinito fermo altri 20 giorni Ericsson ora accelera lì Milan Raio l'ha lo scoperto Gigio può partire e se Ibra si diverte magari può restare anche per la prossima stagione a Milanello poi sul Corriere dello Sport ancora la Juve in primo piano Ronaldo e basta Sarri e la Juve sempre più ai piedi di Cristiano ma se non segna lui insomma sono dolori per la Juve anche la partita di Coppa con il Milan ha evidenziato la dipendenza da CR7 suoi 12 dei 21 gol dei bianconeri nel 2020 in media super ma la squadra non ha identità Pogba rompe con lo United e vuole tornare a Torino nel taglio alto Roma a Bergamo con i senatori tra virgolette scusate contro l'Atalanta e Gellorossi si giocano una chance fondamentale in prospettiva Champions immobile Lukaku le vie infinite del gol domani sera all'Olimpico la super sfida tra Lazio e Inter la proposta della FICC piace a tutti Var un coro di Sida commisso a Sticchi Damiani convince l'impiego del Challenge gasp contrario non voglio fare l'arbitro e poi abbiamo l'intervista al patron del Napoli De Laurentiis troppi torti potrei chiedere i danni e poi c'è anche la stangata chiaramente del UEFA sul City che abbiamo visto in precedenza e a proposito su Tutto Sport ciclone Pep sul mercato clamoroso City fuori dalle coppe per due anni il futuro di Guardiola torna in discussione esclusivo Raiola chiama la Juve Pogba ora si può la gente dell'asso francese rotta con lo United che ha avuto una storia tormentata con Pogba il quale potrebbe tornare dunque a Torino volete Lautaro allora dateci Griezmann l'Inter tratta con il Barça addio al Toro la verità di Mazzari retroscena del divorzio dell'allenatore dal Torino e poi mercoledì gli ottavi di Champions vai Gaspi il Valencia si batte così intervista a Pizzi ex tecnico degli Spagnoli l'Atalanta è uno spettacolo può farcela a superare il turno di Coppa noi invece ci fermiamo per il break pubblicitario prima andiamo a vedere le previsioni meteo per le prossime ore poi torniamo con la seconda parte della rassegna stampa per aprire le pagine interne dei quotidiani abruzzesi a fra poco eccoci di nuovo insieme per la seconda parte della nostra rassegna stampa di nuovo buongiorno un'altra mezz'oretta insieme per sfogliare questa volta le pagine interne dei quotidiani abruzzesi ripartiamo dal primo piano del centro con la nomina a commissario della ricostruzione post sisma di Giovanni Legnini ricostruzione quattro regioni affidate al commissario Legnini il premier Conte lo nomina a capo della cabina di regia per il terremoto del 2016 lascerà il consiglio regionale il primo commento è una grande sfida spenderò tutte le mie energie per portarla a termine Marsilio lo chiama al telefono per conglaturarsi e mettersi a completa disposizione chiedendo però aiuti concreti al governo e una pari distribuzione di fondi fra le regioni l'uscente Farabollini nella sua ultima riunione sblocca la drammatica situazione di Ponzano e il borgo del Terramano che fra Navalle deve essere delocalizzato e qui vedete proprio la foto di Ponzano nel taglio basso Teramo e l'Aquila cosa c'è da fare tutte le priorità in 23 comuni del cratere che attendono il nuovo commissario e il sindaco Biondi mette il dito nella piaga il vero problema è la doppia delega rimasta a Conte per il sisma 2009 su questa notizia andiamo a vedere anche cosa scrive il messaggero Legnini commissario alla ricostruzione c'è la nomina di Conte il consigliere regionale ed ex vicepresidente del CSM si è già occupato della questione sisma dovrà gestire una situazione complessa che riguarda non solo l'Abruzzo ma anche il Lazio le Marche e l'Umbria poi ancora la vertenza Conad Oshan in Abruzzo rischiano 420 lavoratori nel complesso risico dei supermercati fa ingresso il gruppo pugliese dei De Spar poi ancora andiamo a vedere la città ancora sulla nomina di Legnini Legnini nuovo commissario alla ricostruzione nominato ieri sera fra le polemiche nell'ultimo giorno di prorogazio del mandato di Farabollini sono consapevole della grande rilevanza della sfida che mi attende e della complessità dei problemi da affrontare ha commentato Legnini andiamo a vedere ora le altre pagine Abruzzo del centro il ministro all'Aquila tasse sospese alle imprese accordo sul maxisconto l'annuncio di Amendola ministro dei rapporti con l'Unione Europea all'incontro con Confindustria esentate le aziende che nel 2009 totalizzavano l'80% del fatturato in regione poi Confindustria sfida verso il futuro gli imprenditori di 25 anni campioni di innovazione primo classificato il progetto inverso di Costanza Ceri e Nicola Cantoli di Ortona 5 idee arrivate in finale di Giosafatte rappresentano il cambiamento parla sospiri la legge sui malati di cancro supera l'esame del governo e ancora oggi il festival della bicicletta l'Abruzzo all'Oscar del cicloturismo la regione a Verona con la pista da record di 131 chilometri lungo la costa adriatica andiamo a vedere adesso le pagine di Pescara sul quotidiano il centro la doppia pagina iniziale dedicata ai progetti per la viabilità nuovo Viale Marconi a tre corsie i consiglieri Masci Fermi il piano Lega Forza Italia e Fratelli d'Italia chiedono modifiche al progetto non temono il rischio di perdere i finanziamenti pubblici non possiamo distruggere la zona più importante di Porta Nuova meglio allora non realizzare nulla Poi ancora noi ridurremo la tassa sul suolo pubblico mozione del centro-sinistra per bloccare gli aumenti decisi dalla Giunta per gli incassi che riguardano anche i passi carrabili la cosiddetta COSAP il progetto di rilancio intanto test sulla strada parco passa l'autobus elettrico simulazione durante il sopralluogo della commissione sicurezza del ministero i nuovi mezzi dovrebbero coprire il percorso da Montesilvano fino al tribunale i comitati cittadini commentano quei bus rischiano di fermarsi in mezzo al traffico proseguiamo sul quotidiano il centro andiamo a vedere le altre pagine stop all'attività per sette giorni il mercato ittico di Pescara chiuso per sporcizia ordinanza del comune dopo i controlli dei carabinieri del NAS l'assessore e gli operatori nella struttura all'ingrosso poi botte in via delle caserme il processo aggressione a Pescaravecchia le vittime pestati per razzismo nel maggio 2017 vennero presi a calci due ragazzi davanti al circolo SCUM sotto accusa sono uno dei responsabili e per favoreggiamento una ragazza l'arci è parte civile andiamo avanti di Montesilvano la top manager del petrolio negli States Ruth Giansante 43 anni vive e lavora a Miami non è stato un cammino facile in Abruzzo torno sempre in vacanza nelle pagine di Montesilvano il sostegno economico reddito di cittadinanza ora arriva il lavoro per i 1381 beneficiari la giunta ha approvato 410 progetti di utilità collettiva i percettori saranno impiegati nell'assistenza e nel turismo da via settimo torinese il mercato tornerà nella strada parco notizia che riguarda sempre Montesilvano ci spostiamo a Spoltore multe mense e bollette a Spoltore si paga online ecco il portale per i pagamenti elettronici dei servizi della pubblica amministrazione basta andare sul sito del comune per saldare bolli rette utenze e quote associative Francavilla domani il primo appuntamento con il Carnevale d'Abruzzo si comincia e ci sono anche chiaramente i divieti per consentire la sfilata niente auto in Viale Nettuno e su Viale Kennedy dalla Sirena a Piazza Croce nei tre giorni di festa cioè domani domenica 23 e martedì 25 di febbraio modificato anche l'itinerario degli autobus poi salute e ambiente vertice sui tempi di scarica di bus si arriva la commissione d'inchiesta regionale sopra luogo per accelerare l'avvio dei lavori di bonifica Edison comunica che ripristinerà il manto di copertura prima di andare a vedere questo servizio completiamo la pagina ospedale slitta la chiusura ma resta la preoccupazione appenne dopo l'approvazione dell'emendamento presentato da Andrea Colletti e spunta l'assessore alla gentilezza a Bolognano allora torniamo invece al sopralluogo di ieri a Bussi e andiamo a vedere il servizio la commissione d'inchiesta è tornata sul luogo del disastro ambientale a Bussi sul Tirino i rappresentanti della politica abruzzese hanno passeggiato attraverso la discarica più grande d'Europa per quanto riguarda la bonifica del sito si è ancora in alto mare dopo oltre un secolo di industrializzazione e relativo inquinamento la commissione sollecita allo Stato ad accelerare i tempi abbiamo visto lo stabilimento attivo verificando insieme all'Arta la conduzione di quei siti altrettanto inquinati che per fortuna vengono gestiti in condizioni di sicurezza possibile pur persistendo elementi di esposizione a rischio più complessivamente la consapevolezza della appunto immanenza persistenza attualità del rischio all'ambiente della salute è rafforzata e con la conseguenza che non si può ulteriormente traccheggiare bisogna decidere il nome di bus è ormai indelebilmente legato al disastro ambientale il comune ha dovuto acquisire le discariche cosiddette 2A e 2B ma il fardello della bonifica non peserà sulle spalle del piccolo centro in provincia di Pescara quest'area ha un finanziamento dal 2010 di 50 milioni di Euro un finanziamento finalizzato alla bonifica per la reindustrializzazione a febbraio del 2018 a seguito di un progetto è stata bandita una gara dal Ministero dell'Ambiente cioè le istituzioni la gara è stata aggiudicata in modo definitivo il Ministero dell'Ambiente in qualità di committente della gara avrebbe dovuto firmare entro 60 giorni come prevede la legge il contratto con la ditta che si è giudicata la gara e dare inizio immediato alle bonifiche stranamente sono passati due anni ormai il Ministero ancora non firma il contratto il risultato è che qui c'è un'area inguinata che continua a inguinare nel frattempo centinaia di migliaia di abruzzesi si sono serviti inconsapevolmente di acqua contaminata nelle acque destinate al consumo umano sono state identificate 32 sostanze nocive piombo e mercurio in primis nel rapporto sentieri pubblicato lo scorso anno si sono affrontate le malattie e l'ospedalizzazione di oltre 85 mila abitanti degli 11 comuni compresi nel sito evidenziando un eccesso rispetto al resto della regione di specifiche patologie riconducibili ai contaminanti nelle acque potabili nella società chimica bussi spa in due locali sono stati individuati livelli di mercurio allarmanti per cui si è dovuto limitare il tempo di lavoro degli operai siamo alle discariche 2A e 2B di bussi sotto il terreno sopra il quale stiamo camminando sono stipate tonnellate di rifiuti chimici come potete vedere questo è il capping il telo che impedirebbe alla pioggia di attraversare i rifiuti e poi raggiungere la falda acquifera contaminandola ma il telo come vedete è squarciato in diversi punti e la discarica è scoperchiata questa invece è la discarica a Tremonti che è costeggiata dal fiume Tirino uno degli affluenti maggiori del fiume Pescara tant'è che nell'area metropolitana di Pescara l'incidenza di tumori è più alta che nel resto della regione finora il ministero dell'ambiente ha temporeggiato per l'avvio dei lavori di bonifica anche laddove il bando per i lavori di bonifica è stato vinto tant'è che l'azienda che ha vinto il bando potrebbe presto chiedere i danni allo Stato per non aver fatto iniziare presto i lavori e questo perché nonostante vi sia una legge ad hoc per bussi che permetterebbe allo Stato di iniziare i lavori e poi casomai farsi risarcire dall'azienda ritenuta responsabile dell'inquinamento ha temporeggiato fino al 5 marzo prossimo in cui il Consiglio di Stato dovrà decidersi sul ricorso presentato da Edison che rifiuta di essere riconosciuta come responsabile se anche il Consiglio di Stato come il Tarabruzzo dovesse respingere il ricorso Edison dovrà pagare interamente la bonifica per i lavori complessivi della bonifica di tutta la zona di bussi occorreranno circa 300-400 milioni andiamo ad aprire le pagine di Pescara anche sul messaggero ripartiamo dalla strada parco tu a bus elettrici sulla strada a nord di Pescara il MIT ha inviato un ingegnere per la verifica tecnica nel tratto tra Montesilvano e Pescara avanti con il piano i comitati no filovie evidenziano le carenze del tracciato e mettono in guardia dei rischi di un'opera dai costi elevati per il presidente di Tua Giulianti l'ingegnere Valentini non si torna indietro sulla scelta timori di danno erariale Mascia tira dritto con i suoi progetti il 5 marzo a Rimini tra i monopattini poi si farà il bando per la corsia dei bus su Via Le Marconi ma Forza Italia frena nel taglio basso centro-sinistra mozione sul caro COSAP l'opposizione annuncia battaglia in aula l'assessore se c'ha ribatto inevitabile l'adeguamento agli Istat poi i NAS fanno chiudere il mercato ittico carenze igieniche stop di una settimana operatori arrabbiati comune già a lavoro pestaggio neofascista allo SCUM due giovani finiscono a processo 21 maggio 2017 massacrarono di botte un ragazzo al grido di siamo razzisti la cronaca giudiziaria Masciarelli per la OMA una semplice consulenza il nuovo indagato per il crack Angelucci ascoltato per ore in procura affiancato dai legali Milia e Femminella poi torniamo a Bussi come abbiamo già visto bonifica sempre più urgente Legnini in sopralluogo con la commissione d'inchiesta la discarica dei veleni ribadisce la situazione allarmante il sindaco di Bussi la gatta commenta al ministero dell'ambiente il ritardo di due anni sull'appalto Edison ripristina il capping abbiamo sentito tutto nel servizio di Giuseppe Dintino poi De Martinis piano per il rilancio del commercio a Montesilvano le proposte degli ambulanti illustrate al sindaco e l'assessore Paolo Di Blasio avvocato pescaresi apre un ponte per l'export in Asia allo studio vasile promosso un tavolo di confronto fra aziende abruzzesi e il ramo europeo di Bank of Singapore andiamo avanti con il messaggero andiamo nelle pagine di Chieti rotolano sulla rampa di ferro due feriti nella scala mobile un uomo di 92 anni ricoverato per una ferita alla testa l'altro è stato medicato e dimesso la polizia ha acquisito il video prima caduta originata dal tentativo di superare un pedone notizia che troviamo anche sul quotidiano il centro eccola qui cadono nella scala mobile due feriti l'impianto funziona a metà utenti costretti a percorrere ripidi scalini ieri mattina doppio incidente arriva la polizia allarme sicurezza sulle scale mobili poi di scarica bruciata arriva una condanna bonifica mai fatta con le marconi di Chieti pena di un anno e mezzo in multa di 20.000 euro a Leon Bruni torniamo sul messaggero completiamo le pagine di Chieti corso tornano doppio senso e parcheggi siamo a Lanciano l'ultimo tratto era a senso unico a causa di una voragine adesso il dissesto è sotto controllo grazie ai 30 sensori il vice sindaco Verna commenta stiamo continuando a lavorare sulle problematiche del sottosuolo nel centro storico e noi possiamo andare a vedere il servizio a Lanciano Corso Trento e Trieste nell'ultima parte che converge a Piazza Plebiscito torna finalmente a doppio senso di marcia dopo quasi due anni di senso unico e ovvi disagi rallentamenti alla circolazione in pieno centro città il 16 agosto del 2018 sotto alcuni locali commerciali si aprì una profonda voragine e dunque la strada è stata oggetto di interventi di messa in sicurezza e soprattutto di carotaggi oltre a un costante controllo del sottosuolo grazie a sofisticati sensori che monitorano notte e giorno la situazione a rischio nella parte bassa appunto del corso i dati sono confortanti ed escludono particolari rischi dunque si è provveduto ad installare la segnaletica orizzontale e verticale per riaprire il doppio senso già dalla giornata di venerdì quando il dirigente del settore mobilità e traffico ingegner De Simone firmerà l'ordinanza ovviamente per motivi di sicurezza non potranno transitare i mezzi pesanti mentre il traffico cittadino ritroverà immediato sollievo la chiusura della parte bassa del corso e quella a monte in viale delle rose che riguarda i lavori relativi al central park hanno di fatto spaccato la città in due col flusso veicolare tutto riservato su via Dalmazia e via De Crecchio tra code e rallentamenti le pagine di Teramo adesso e andiamo a vedere la tragedia di ieri a Giulianova muore investita dalla figlia la ragazza di 14 anni era al volante dell'auto di famiglia indagata per omicidio stradale la minorenne interrogata dal PM Lorenzo Destro e assistita dall'avvocato Marcello Cartone il legale ha chiesto alla madre di farla provare è una tragica fatalità l'incidente è avvenuto in una traversa del lungomare la macchina in retromarcia ha travolto la donna che un anno fa aveva pianto il fratello investito da un automobilista ubriaco a Chietiscalo gli amici della vittima la ricordano era Solare i clienti del bar dove lavorava la adoravano restiamo su questa notizia andiamo a vedere anche l'articolo della città il quotidiano della provincia di Teramo muore investita dalla figlia 14enne tragedia nella tragedia ieri mattina Giuliano Valido 41enne travolta dall'auto in retromarcia i soccorsi portati alla donna sono però stati vani i traumi riportati sono stati talmente gravi da provocarne la morte sul colpo le indagini i carabinieri diretti dal comandante Marzo hanno svolto i rilievi del caso e ascoltato le testimonianze è stata disposta anche l'autopsia torniamo sul quotidiano il centro andiamo a vedere poi le altre notizie sempre da Teramo l'inchiesta donna suicida e il marito accusato di maltrattamenti avviso di garanzia in previsione dell'autopsia che sarà affidata oggi la procura ha aperto un fascicolo anche per responsabilità per dolo o per colpa la messa in sicurezza dell'acqua del Gran Sasso il commissario il tempo stringe Gisonni incontra istituzioni e cittadine e dice la mia struttura non è ancora operativa su questa notizia andiamo a vedere anche l'articolo della città eccolo qui acqua sicura il primo passo è studiare la situazione il commissario Gisonni incontra i cittadini ci sono tutte le condizioni per venirne a capo i fondi sul piatto ci sono 120 milioni di euro per Gisonni è presto per capire se basteranno per mettere in sicurezza l'acquifero del Gran Sasso torniamo adesso sul quotidiano il centro e completiamo così la lettura delle pagine del Terramano Atri scatta l'allarme per la cimice asiatica che attacca gli alberi diverse piante di olmo sono state distrutte da questo insetto andiamo a vedere anche il messaggero eccolo qui Simona suicida come la sorella il mistero del biglietto d'addio la donna casalinga lascia due figlie la procura ieri ha aperto un'inchiesta per oggi è stata disposta all'autopsia in arrivo il fratello Walter dal Piemonte la palazzina dove la 45enne si è tolta la vita con un fular alla tromba delle scale poi ancora l'abbiamo visto l'incontro con il commissario della messa in sicurezza del Gran Sasso Gisonni ecco la mia strategia esposta in un incontro pubblico organizzato dal parlamentare 5 Stelle Berardini ancora figlia di 14 anni al volante travolta la madre tragedia ieri mattina la vittima e la 41enne Desiree Luciani davano a lezione di guida alla ragazzina Opel fuori controllo la donna schiacciata dall'auto contro un muro laterale la minorenne ancora sotto shock ha raccontato tutto al pubblico ministero Giulianova oggi il corteo contro il daspo urbano è ancora in Val Vibrata risse il questore fa chiudere il bar per una settimana torniamo sulla città andiamo a vedere le altre notizie la scuola ecco il dossier dei lavori per le superiori consegnata alla vice ministra Scani la lista degli interventi per cui servono circa 55 milioni di euro provincia di Teramo che è riuscita a mettere in cantiere per le scuole interventi per 37 milioni per una buona sanità occorre l'innovazione tenti temi affrontati nella giornata di studi dedicata all'ex manager scomparso cioè Roberto Fagnano poi Teramo in maschera torna il carnevale carri animazione in piazza Martiri l'assessore Filipponi un progetto che vogliamo far crescere Montepiselli stazione piena nonostante l'assenza di neve gli sciatori hanno lasciato spazio per forza di cose agli amanti delle passeggiate e della bicicletta un turismo invernale che si sta trasformando in turismo estivo sequestrate 240 tonnellate di mangimi nell'ispezione dei NAS nelle aziende negli allevamenti Teramani e poi ancora andiamo avanti e andiamo a vedere adesso le pagine dell'Aquila sul centro e sul messaggero la città del futuro montagna e turismo Gran Sasso processo al parco ma sui divieti si cerca il dialogo tanti problemi sul tappeto nella seduta straordinaria sul tema dello sviluppo del bacino sciistico la Lega vuole che vengano rivisti i vincoli di alcune aree tutelate che impedirebbero lo sviluppo delle infrastrutture il presidente Navarra apre possibili modifiche ma esclude passi indietro sul fronte della tutela a Sulmona condanna per omicidio stradale investì e uccise un carabiniere nove anni e la condanna l'uomo era ubriaco al volante non si fermò a un posto di blocco travolse l'appuntato Emanuele Anzini e poi fuggì la figlia Sara la condanna seppur severa non lenisce nemmeno la minima parte del dolore che provo per la perdita del mio papà in servizio in Lombardia nel Bergamasco poi il senegalese rischia la simulazione di reato Sulmona aggressione razziale inventata il PM valuta la posizione di Camarà solidarietà dagli amici di Grillo poi nel taglio basso residenza sanitaria il PD chiede chiarezza a Montereale poi ancora andiamo a vedere le pagine dell'Aquila sul messaggero Gran Sasso la regione adesso chiede la revisione dei vincoli c'è un ampio fronte che vuole la riduzione il documento firmato dall'assessore imprudente il Consiglio Comunale approva una mozione per la nuova regolamentazione del parco la maggioranza vota compatta all'atto del municipio il PD non si esprime ma sciocco è contrario poi il Ponte Belvedere ecco il project della Unirest previsti la demolizione del viadotto la realizzazione di un sottopasso e 300 posti auto pagina successiva cratere le tasse non vanno restituite il ministro Amendola Confindustria all'Europa ha colto le nostre richieste il credito bloccati 8 milioni di fondi restart imprese e confidi lanciano l'allarme i finanziamenti una volta disponibili darebbero ossigeno a oltre 3 mila aziende aquilane poi ancora call center Oli System Shopper e City appello a poste per evitare 29 tagli manifestazione pacifica ma decisa per scongiurare ripercussioni sugli organici nella pagina successiva falciò un carabiniere condannato a 9 anni la vittima fu Emanuele Anzini un ubriaco lo travolse mentre stava effettuando un posto di blocco a Bergamo disposta provvisionale di 80 mila euro nei confronti dei familiari sentenza esemplare il massimo della pena possibile poi ancora nel taglio basso centrale a biogas già pronto il ricorso al TAR da parte dei comuni marsicani e poi a Villa Lago il comune deve risarcire una società edilizia il TAR ha stabilito 113 mila euro al gruppo Candeloro l'ente era in dissesto pienone all'incontro con la vice ministra Ascani ad Avezzano per quanto riguarda invece il partito democratico siamo così arrivati alle pagine di Sport ritorniamo sull'anticipo di ieri sera all'Adriatico Cornacchia Pescara altro KO di rigore il Cittadella si conferma la bestia nera del Delfino e sbanca l'Adriatico per 1 a 2 in una gara molto tesa decisivo un penalty di Iori nel secondo tempo ad inizio il gol di Diopo poi il pareggio di Zappa con un bel colpo di testa il Biancazzurri incapaci di trasformare in occasioni la gran mole di gioco l'arbitro il Luzzi di Molfetta non ha convinto tutti in attesa di Bozinov porterò la mia esperienza dice il Bulgaro e poi nel taglio basso il commento dei tecnici in particolare quello di Le Grottaglie troppe ingenuità pagate a caro prezzo tra poco ascolteremo Le Grottaglie intanto andiamo a vedere le pagine del centro sempre sulla partita di ieri sera una notte da dimenticare ingenuità e rimpianti il Pescara si fa male il Cittadella si conferma la bestia nera del Delfino che sbaglia in difesa momentaneo pari di Zappa ma la squadra paga d'azio sul piano tecnico nell'anticipo l'attaccante di O manda in crisi la retroguarda Biancazzurra prima segna e poi si procura il rigore decisivo i protagonisti Zappa promessa mantenuta Sara Fiorillo abbiamo preso gol evitabili così il capitano del Pescara poi ancora la delusione le Grottaglie così brucia l'arbitro non mi è piaciuto il tecnico dice ho visto tanti falli da dietro e pochi cartellini gialli l'analisi dell'allenatore a tratti abbiamo dominato ma le amnesie ci fanno perdere il rosso non ho insultato il Luzzi non è nel mio stile andiamo a vedere adesso proprio le parole del tecnico le Grottaglie diciamo che il signor Luzzi questa sera non è apparso in grandissima serata non lo so non sarò io a giudicarlo saranno i commissari a giudicare l'operato di Luzzi sicuramente mi dà fastidio che ho preso un'espulsione quello sì perché potevo rimanere la sua giustificazione è stata che sono stato ingestibile nella panchina andavo fuori dall'area tecnica la panchina era tutta in piedi i giocatori si alzavano quindi sono stato ingestibile perché mi lamentavo perché lui fischiava ogni volta fischiava il fallo e io e lì ho detto intanto non ti ho offeso non ti ho offeso ma ho solo mi sono lamentato perché non ero d'accordo e se non devo neanche dirti che non sono d'accordo che sono d'accordo con te o non sono d'accordo mi dispiace dimmi te come devo comportarmi in panchina quello è stato il senso però ovviamente ho sbagliato e chiedo scusa ho sbagliato forse ho esagerato in alcuni movimenti in panchina mi prendo le mie responsabilità senza problemi parliamo allora di questa partita una partita che si era messa male ma che eravate riusciti comunque a recuperare sull'1-1 avete avuto anche le occasioni per vincerla questa partita per quello sono rammaricato la squadra ha fatto 3-4 situazioni belle anche da vedere mi sono piaciuti hanno interpretato bene la gara come l'avevamo preparata hanno speso tanto perché questo calcio è un calcio dispendioso e li ho visti bene poi in alcuni momenti della partita siamo calati loro sono venuti un po' sopra ma non mi davano l'impressione di poterci far male più di tanto tutte le situazioni che abbiamo concesso ancora una volta è perché noi siamo stati ingenui in alcune situazioni e lì dobbiamo crescere dobbiamo crescere perché tre rigori in due partite non è normale significa che c'è qualche superficialità che dobbiamo togliere la serie C adesso oggi al Bonolis Teramo si cambia c'è l'ipotesi 4-3-2-1 contro il Monopoli Tedino potrebbe schierare Bombaggi come unica punta Minelli recupera in difesa Cristini favorito su Piacentini sul Teramo anche il titolo del messaggero Teramo ballottaggio tra Mungo e Magnaghi Tedino che non sarà in campo perché squalificato sta affinando la formazione contro il Monopoli tecnico scienza il diavolo squadra di qualità è propositiva andiamo a vedere il titolo sul Teramo anche della città Bombaggi falso 9 Tedino ci pensa alle 18 l'anticipo contro il Monopoli Teramo che studia un modulo senza attaccante di ruolo il problema under per scienza l'assenza di Maestrelli complica la situazione in casa Monopoli Tazzerri in ballottaggio a destra con Asmanovic mentre tra i pali potrebbe andare il giovane Antonino al posto di Menegale Nel taglio basso l'avversario Lex Jefferson guida la banda terribile ecco il Monopoli di scienza formazione che ha vinto otto volte in trasferta e con giocatori che stanno disputando un campionato di altissimo profilo torniamo sul quotidiano il centro la palla a volo di A2 domani alle 18 Lanci seco alla riscossa con Marx in campo dopo i K2 di fila in trasferta gli ortonesi riceveranno la BCC Castellana Grotte per agganciare la terza piazza in classifica in serie D il Chieti con Maranzino e la coppia Sivilla Traini contro il Monte Giorgio alle 14.30 la partita si gioca in anticipo ad Ortona a proposito di serie D andiamo a vedere il messaggero Chieti vietato sbagliare in casa con il Monte Giorgio Nero Verdi in silenzio stampa Nozdeo non vanno sottovalutati la vastese Franco Bolami ci meritiamo i play off il difensore Nicolás Di Filippo non dobbiamo fermarci contro il vasto Girardi gara importante per il basket dura prova in trasferta a Forlì per gli Sharks e appunto andiamo a vedere il basket di A2 domani in campo alle 19 Marini Roseto scusa ma devo batterti l'ala del Forlì Rosetano Doc sfida la sua ex squadra la città è nel mio cuore però saremo avversari per un giorno il rugby Costantino Lavezzano a carattere domani ripartirà la B con i Marsichicani a Catania il Paganica in casa con l'Arvalia poi troviamo infine la palla a nuoto di A2 Pescara Salerno contro la Rechi Malara recupera Difonso e la palla a mano di A2 Lions a caccia del secondo posto in Serie B c'è il derby Teramano è tutto per questa nostra rassegna stampa mattino 6 tornerà lunedì alle ore 8 la nostra informazione invece oggi alle 14 alle 19 e alle 23 con il TG6 da parte mia l'augurio di una buona giornata e di un buon fine settimana a l'anima